Come cucini il seitan? Mi proposta cosa sia il seitan? Io lo volerei. Non è buono. Polistirolo. Insalate o semplicemente in padella. Uno spezzatino. Lo vedo sempre nei piatti vegani, vero? Chiediamo, lo loghiamo subito. Ciao, mamma. Ma com'è che lo cucineresti? Lo trito e poi lo passo in padella per renderlo croccante. Aggiungo salsa e pomodoro e cipolle sticcante. Potrebbe essere un'idea. Poi ce l'ho zeccata. Croccante non basta mai. Ti aspetto allora, eh caro? Dai, così mi posso assaggiare. Food Network, canale 33. No, no, no.